E andiamo! Guarda che roba! Si! Si! Incredibile attenzione ragazzi! Come va amici? Noi siamo i due bomber al freestyle Ragazzi quest'oggi Super Battle con i monopattini tra i due bomber al freestyle e che dire siamo pronti per andare in monopattino? Ho appena rinnovato la patente E allora andiamo in di corsa! Partiamo con la prima battle Troviamo immediatamente uno slano tra i conetti successivamente un gol da effettuare all'interno delle porte situate al lato del campo e successivamente una piramide di coni da buttare giù con tre rigori Vince il primo che completa il percorso nel minor tempo possibile No! Fuori! 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 E dall'altra parte! Dai! No! Non so come sono rimasto sopra! Era impossibile! No! No! E' impossibile! Come fai? E' impossibile ragazzi! Riccardo! Questo è quello che ho trovato! Ricordo anche di lei! No! 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 Sono troppo larghe Sì Goal Sì Sì Vanno Vanno Purtroppo Bombers questa qua l'ho persa Ma chissà la sfida è ancora molto lunga E questa prima sfida ce la portiamo a casa Devo dire onestamente Ho meritato perchè ho fatto un percorso pulito Con qualche sbavatura ma ci sta Non vedo l'ora di affrontare i dig nella prossima battle E secondo me la prossima Avrò un filo da torcere Uno perchè il secondo Me lo porta a casa Seconda battle Corsa contro il tempo Dovremmo effettuare 50 metri con la palla in equilibrio sul piede Sopra al monopattino Chi sarà più bravo? E soprattutto il più veloce? Oh Ho perso tempo un po' all'inizio Devo recuperare l'equilibrio ragazzi è fondamentale Devo sprintare gli ultimi Provo a recuperare ancora un po' Ora Ora Accelura al massimo Ora 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 Ho finito ho finito ho finito Si Si Che dire ragazzi Dopo una partenza un po' singhiozzata Sono riuscito a recuperare con la velocità Il pezzo difficile più che altro è quando sono arrivato a metà Che a livello di sensazione ho detto ce l'ho fatta Ho capito la modalità appunto per tenere il pallone E poi ho dovuto recuperare Quindi ho tenuto gli ultimi connetti rossi per sprintare E infatti la palla mi è caduta subito dopo che ho passato il traguardo Sono curioso di vedere Digg quanto farà però Perché secondo me su questa sfida Lui potrà rendere difficile la questione Dobbiamo andare ultra veloci E adesso andremo Dai, 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 dai Dai, andiamo Andiamo Guarda qua che roba Guarda qua che roba E allora E allora E allora Portiamoci a casa questa sfida E ragazzi Adesso è il momento di andare a vedere l'ultima battle Ovvero la battle più interessante Quella che decreterà il vincitore Andiamo Terza Terza e ultima battle Uno contro uno Cinque gol a disposizione Una sola partita Che vinca il migliore Oh nooo Ragazzi, ragazzi Che gol Cioè Vogliamo parlarne Cioè Io volevo fare il classico giochettino Palla di lato Io vado dall'altra Bam Ruota in pieno Sì 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 Che dribbling Che gol È impossibile ragazzi È impossibile Se ti salta Sei finito Andiamo raga Nooo Sì Nooo È incredibile Ragazzi Che gran gol Che gran gol Cioè Saltaggio dell'uomo In profondità E si segna Palo gol Tattica Tattica Pallone che passa da una parte all'altra Fuori Mia eh Nooo 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 Dai guarda che sei sceso dalla moto Dai Mi attendiamo Tre due Nooo Che cazzo di che puttana dai oh di cosa stiamo parlando aspetta che è in penno com'è che fanno sarda non ci credo non ci credo ragazzi ma cosa ho sbagliato porta vuota non ci credo non ci credo dove la mettiamo? va bene guardalo noo 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 1 tra 3 il discorso sai cos'è non volevo farla uscire non pensavo che fossi dietro me la paghi questa me la paga guardalo vamo che gol raga di contropiede gli rubo la palla questo è tipo una ingolanna a centrocampo no no non si va non si passa non ci credo non ci credo cosa ho preso torca miseria no che cazzo ho mangiato no non ci credo trovi no 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 in qualche modo vamo raga ma chi sono sulla riga ragazzi qua tanta roba ragazzi vamo scusi ragazzi questa insomma la meritavo insomma la meritavo grandi azioni grandi sottoporto sbagliati non non è valido non vale beh ragazzi che dire è stata una sfida combattuta l'ultimo punto secondo me vale è proprio totalmente tutta la sfida perché ho fatto un gran controllo sulla riga ma la sono portata sulla fascia bravi ragazzi da fuori bravi raga la monopattini battle di quest'oggi è stata vinta da zapigno grazie grazie ma è stata combattuta mi raccomando like e commento clicca qui per vedere altri due video e se sei un vero bomber devi iscriverti sul canale dei due bomber tanto è free bombers ti aspettiamo e al prossimo video ciao ciao